Bentornati ragazzi sui due terzi! Siamo di nuovo sulla Dangercraft! Oh, siamo nel quinto episodio della Dangercraft! Sì! Allora, come puoi notare, io qua su non ho modificato niente, quindi possiamo andare nella foresta? Sì, e qui sotto c'è una casa di cacca! Sì, esatto! Praticamente ho fatto una stanza dove spawnano i mob, così che un giorno noi possiamo andare e uccidiamo tutti! Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Ah sì, ho tolto l'acqua! Ma sono caduto! Perché hai tolto l'acqua? Eh, perché li ho chiusi dentro! Ah, va bene! Eh, ci metteremo una porta così un giorno che vogliamo fare un po' di esperienza andiamo lì e uccidiamo! Stai andando alla parte sbagliata! Ok, ah, un secondo che vado a sorprendere gli oggetti! Nemmeno... Aspettami! No, aspettami, aspettami giù, porto giù io! Ok! Oh, nell'ultimo episodio ragazzi, io sono andato in là, verso il ghiaccio! Solo che poi ho tirato una foresta e quindi adesso abbiamo intenzione di esplorarla! Portiamo una pala, un piccone... Mi scende in fretta, molto in fretta la fame! Eh già! Facciamo così! Ok, guarda, allora, dove sei? Beh, ora sto salendo! No, ma stai giù! Sì, però... Apu! Eh! Guarda... Cioè, sta facendo notte! Ah, io ti ho lanciato la giuglia di oggetti! Ma come? Mi vado a prendere! Vado subito! Eccolo! Ah! Uh! Stavo cadendo ancora! Ma dove si scende? Ah! Ok! Eh, io non li vedo gli oggetti, eh, quindi... Dove che li hai lanciati? Eh, lì vicino al pollo! Ah, eccoli qui! Belli! Io ti aspetto sempre! Ciao, pecore! Arrivo, eh! Io sono andato! Arrivo, signor... Oh, madonna! Mi fa buio, non mi piace il buio! Ok, dai! Siamo pronti! Non abbiamo cibo! Partiamo così! Easy! Oh! Stavo cadendo! Ancora! Ti ho dato una spada, un piccone, un'ascia e... Un piccone di... Legno! Ok! Ok, allora, come puoi vedere, c'è già da fare buone! Eh, eh... Ah, sei qui? No, dove sei tu! Sei già sceso? Arrivo! Eh! Eh! Carbone! Mio! Sì, vabbè, ma lasciarlo lì! Ce l'abbiamo accanto a casa! Ah, giustamente! Oh, guarda qua, una bella cascata! Pazzasacce! Ho preso un pollo! Stai calmo! Ok! Andiamo! Sai, Gabriel, stavo pensando di giocare a questa serie... Oh! Eh, dimmi! Con... Con una bella texture pack! Eh, beh, sì! Beh, sì! La dovremmo mettere! Io ne ho già alcune... Ovviamente ce n'è una più bella delle altre... E... Ne scegliamo una! Ne scegliamo una! Ma io, cioè, tu lo sai che... Lo sai che odio la foresta, no? Sì! Lo sai che io non voglio entrare in questo posto maledetto? Beh, andiamo! Ma guarda, guarda questa mucca! Ciao! Muore! Muore! No, no! Non ne abbiamo di mucche! Rivolta la mucca! Dove sei? Ecco! Ah, eh, sono qua! Dove stiamo andando? Non lo so! Nella foresta! Andiamo! Siamo... I pergrills! Nella giungla ci sono gli animali! Cantano tutti! Cos'è? Dove l'hai sentita sta canzone? Dove sei? Non lo so, era tipo una canzone dei bambini! Cacao, meraviglia! Pollo! Pollo nelle casse! Pollo nelle casse! No, per favore! Pollo, pollo! Il pollo combina, guarda! E andiamo! No! Uff, cosa è successo? Ho mezzo cuore! Eh, volevo saltare ma non ce l'ho fatta, ho mezzo cuore io! Ah! Vieni giù! Ora ti prendo da accettato! Oh, c'ho mezzo cuore, stai calmissimo, eh! Oh, io ho tirato gli anguri e finalmente posso mangiare! Ok, ma dove sei? Eh, buh! Sei sopra una montagna, dimmi solo questo! No, per niente! Eh, io c'ho 46! Eh, ti ho visto! Ti ho visto! Ciao! Lo sai, ecco sì! Stai fermo con quella che ho mezzo cuore! Ah, tranquillo! Ok! Datemi un martirino, oh! Ecco! Senta che qua, oh, guarda, ne prendo un sacco così! Dove sei? Nell'acqua! Ah, eccoti! E' anche bello quell'albero! Molto alto! Ah, sì, vedo quello, vedo quello, vedo quello! Dove sei? Quello! Ma quello quale? Ah, quello da solo? Quello lì, quello alto, figo! Quello da solo? Sì! Ok! E' bellissimo! Zucchero, cioè, cambia da zucchero! Andiamo per il deserto? Guarda che bioma strano! Deserto e foresta mischiati! Ma sì, dai, facciamo sta spedizione! Aspetta, possiamo fare una cosa! Eh! Oh, no, no! Possiamo costruirci una barca! E' con cosa? Con legno! Ok! Dai! Ora, ecco, lo sapevo! Lo sapevo! Oh, no! Aspetta, li prendo! Ok! Sì, ma non puoi... Come si fa? ...farti una barca con quelli! Guarda, devo scendere e fare tutto! È partita! Come è partita? Guardala! Ma dai! Ma non è che si è fermata lì! È andata velocissima! Allora, questa è tua! Nel mare! Non andare con tre polipi che si rompe! Ma quella è lì? Eh, la lasciamo lì! Viene di qua! Ehi, là! Forza, turma, lor, in baggio! Ah, sì, ragazzi! Non so se ve ne siete accorti, ma probabilmente sì! Io sto registrando con tutto un altro microfono, perché... Le mie cuffie, che avevano un microfono davvero eccellente, il migliore che io abbia mai provato su delle cuffie, le Osononda 3HX. Dove sei? Non puoi, vai, vai, vai! Oh, che è successo? Chi è? Boh, vabbè. Oh, no! Oh, no! Praticamente mi si sono rovinate le cuffie, una non funzionava più, l'altra funzionava più o meno. E quindi non ho più le cuffie. Oh, guarda che bello! Ma che è successo? Sei scemo! Ho perso la barca così! No, non è che l'hai persa, l'hai rotta. Ma non l'ho rotta! Ma sei andato contro quella roba lì! Ma cosa? Eh, ecco anche tu! Vedi? Che cazzo? Te l'ho detto! Camminerò, camminerò. Almeno questo. Scusate di picchiare le mucche e sbrighiamoci che è notte. È pericolosa la notte. Speciale nella foresta. È notte. E infatti ci hanno zombi lì. È un creeper! Due creeper! Non ti preoccupare, ci penso io. Sì. Può fa! Pam, 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 pam! No! Ci sta un po' letto. È un altro! Oh, oh, ma non posso stare in mezzo! Io mangio l'anguria. Altre anguria! Enderman! Altre anguria! Enderman! Eri qua! Oh, occhio dietro! Occhio dietro! No, voglio quello! Occhio! Oh, muori adesso! Ho due cuori! Senti, scappiamo, scappiamo, scappiamo! Mezzo cuore! Via! 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 Scappa! Fai una cosa! Scappa! Vieni qua, vieni qua! Corri, scappa! Entra questo buco, entra! Dove? Qua, sotto terra! Arrivo! Anguria! Entra! Qui! Dove vai? Ci sono anguria! Vieni qua, oh, è mezzo qua! Vieni dentro! Arrivo! Entra e va! Ma si! Ma vaffanculo! Sì? Ora, ora cosa dovrei fare? Adesso tu resti a casa e vai un po' in miniera Oh mio Dio! E tu? Almeno prendi la roba che mi è caduta! Sì, sì! Ho già presa! Eh, io invece cercherò di sopravvivere qua! Ma io voglio dormire! Eh, io non posso, non c'ho letto! Che potrei farmelo? Cosa? Oh mio Dio! Ok! Una strega! Una strega media! Una strega media! Ah! 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 Che è? Che è? Io scappo! Che è? Che è? Ah! Mi sono chiuso! Mi sono chiuso! Ah, Q! Sì? Cosa succede? Niente, sono caduto Poi un credere mi ha quasi fatto esplodere Poi mi sono chiuso dentro un albero Cosa? Eh... Eh... E niente, adesso è un video La strega di giorno mi fa male Sì? Mi fa male sì? Ah, furtiti! Uuuuh! Ahahahah! Cosa? Il primo era Stavo risultando nel primo urlo E questo ho gridato dalla paura Per un attimo Ok Almeno ce l'ho sempre lì Bravo Eh, come era lì? Eh, eh! Guarda come vola! Guarda come vola sul ghiaccio! Wow! Velocissimo! Guarda come vola sul ghiaccio! Ma com'è veloce! Ma com'è veloce! Veloce com'è veloce! Veloce il vento! Oh! Dungeon bello! Bello! Eh, sta andando! Eh, ando! No, ha detto Eh, sta andando! Eh, ando sì, ando sì! Bailando! Bailando! Eh, che buone! Eh, che buone! Parola di freddo! Non lo faccio scamatore! Uguare! Sto morendo! No! Poi vedemi Il grande fiato! Il grande! Un grande frauncio! AQ! 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 Oddio Ma Sì Posso parlare? No, no, puoi, puoi Io direi che in questo episodio Sì, sì, ok, perfetto, può finire, ok Ok, può finire qui Sì, perfetto Mi fai preoccupare tu, eh Perché non ti sento più, sento solo urla E mi preoccupo Come sei messo? Ok, perfetto È un'ottima chiusura questa La scopriremo solo vivendo Ho rottuto la pala E tu hai rottuto le pali Comunque ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio Ciao Bella